20 da uragano, onde impetuose, piogge torrenziali stanno fustigando la California da mercoledì scorso, lasciando mezzo milione di case senza elettricità. Ci sono anche 6 vittime a causa del maltempo dal fine settimana di Capodanno, tra cui un bambino morto sotto una sequoia caduta che ha schiacciato una roulotte nella città di Occidental. Dopo la tempesta di Natale che ha colpito molti stati americani, questa è l'ennesima calamità naturale per gli States. Piove ha dirotto sull'interstatale San Mateo. Un'allerta del Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che nuovi forti temporali potrebbero portare i fiumi, come qui a Morgan Hill, nella contea di Santa Clara, a livelli record e causare inondazioni in gran parte della California centrale. Qui ad Aptos i residenti hanno iniziato a ripulire, ma si stanno preparando ad un altro assalto del maltempo. I meteorologi avvertono che da lunedì una corrente tropicale colpirà la California e porterà nuove forti piogge. Grazie. Grazie.